L'Università degli Studi di Salerno, con i suoi 40.000 studenti, è una delle poche in Italia ad avere la struttura del campus, con 1.200.000 m2 di estensione. Numeri che ne fanno, per dimensioni ed utenza, la terza università del Mezzogiorno Peninsulare. Le attività di studio, didattiche, di ricerca, sociali, culturali e sportive di una comunità così ampia e dinamica, generano un notevole fabbisogno energetico. Fabbisogno che l'Ateneo soddisfa con la produzione da energie rinnovabili, per la percentuale variabile tra il 16% nei mesi estivi e il 33% nei mesi invernali. Un risultato ottenuto grazie all'installazione di 21 sistemi inseguitori solari biassiali, da 12 pannelli che generano più di 200 kW, e che con i restanti impianti di moduli ad altissima efficacia costituiscono una superficie di quasi 7.000 m2, tra i campus di Fisciano e Baronissi, per una producibilità attesa di circa 1.500.000 kWh. Questo è il tema discusso il 12 maggio 2011 all'Università degli Studi di Salerno. Nel convegno dal titolo Energia uguale miglior consumo meno costi. L'innovazione tecnologica per la tutela dell'ambiente e la produzione di energia dalle fonti rinnovabili all'interno dell'Ateneo Salernitano. Sono intervenuti sul tema i docenti della Facoltà di Ingegneria Ciro Aprea, Lucio Ippolito, Gianfranco Rizzo, Nicola Femia e Ornella Malandrino. E ancora l'ingegner Gianluca Basile dell'area sesta Risorse strumentali. Hanno partecipato all'incontro gli studenti e i docenti dell'Ateneo Salernitano e degli istituti superiori campani.